Amici, proseguiamo un like tag in senso. Partita la registrazione. Oh, devo contare una cosa. Non so perché, ma ogni volta che registro un vocale su WhatsApp... Ve lo dico dopo. La consideriamo un vantaggio questo. Comunque, ogni volta che registro un vocale da PC... ...ehm, mi abbassa l'audio del microfono. Non so perché. Ah, ma non vogliamo passare. Ah, ci sono così molte! Quando Hugo e io riuscano, ricorda qualcosa che attaccò i dottori? Penso che è grazie ai ratti che siamo potuti escapare quella giorno. Sì, questo è uno dei primi posti dove si è venuto. Ma non esprime il loro comportamento. No, non lo spiego affatto. Io, ovviamente, non mi ricordo un cazzo. Ok. Ok. Va bene. Corriamo, ma che vi tornino. Bella, ce ne sono ovviamente altri. No, non lo spiego. No, non lo spiego. No, non lo spiego. No, non lo spiego. Ok. Non lo spiego. Non lo spiego. Va bene. Vedete, io ho solo notifiche. Vai. Ok. 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 Ehm... Ehm... Ah! Certo! Lucas... Era... Questo... Andiamo! Non posso fare niente... Alla! Andiamo indietro... Ok... 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 ... Ok... Ok... sì allora ok 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 come on ok 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 ah prendo io? ok bene e dopo aver fatto ciò non andiamo non posso fare ultimane andiamo ok devo fare un giro lunghissimo non 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 bene ok 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 immacolata non ...complexe, elixir. There has to be something else. Another place, another room. Not that I know of. You can't just make an opus magnum like that. She must have a laboratory somewhere. I don't know. I don't see where. Laurentius, he bit his laboratory away from prying eyes. So your mother must have also... She told me nothing. I never saw her. But that's it. Isn't there a place where she didn't want you to go? I don't know. Some place he protected. The old Roman ruins. She didn't want me to go there. The Roman ruins. Yes, definitely an idea from an alchemist. Exactly where are they? The garden. Let's go. Ma quindi Lucas non si chiede... ...perchè la stanza sia immacolata. No? E lui è normale. No, they're regrouping. You mean... Lucas, you have to stay here. Bella. To the right. Come on. Yes, yes. I'm coming. Arrivo, eh? No more. I'll let you move. You deal with the rest. Okay. Come on, Amicia. We need to go. Sì. Arrivo, arrivo. Andiamo. Giù. Tienati. Quanto siamo di video. Okay. Andiamo. Eh, bastano. Eh, ma senza Yugo... Non ha fascino la cosa. Allora... Get ready to run. But ready. Run! Okay. Go! Così non me la devo ricaricare ogni... Panculo! Come on, come on! Don't go! Forza! Okay. Andiamo. It's all right. I don't believe it. Look at them. Like a river. A river of rats. It's the only way to get to the bar. Wait! The car. We can be light the fire and push it. No. I'll light it and you push it. What? All by myself. You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? All right. All right. Get your ammunition ready. Because we haven't done all this for nothing. Come on, Lucas. Let's go. We'll be, we'll be. Vai. Confido in te, Lucas. No, ma... Ah, qual'è una shell? Ok. No. Vai. E' questa parte che non mi aveva fatto impazzire. C'è da qui in poi. Perché prende pieghe troppo esagerate, mettiamola così. E non mi aveva proprio convinto. Ok, non potevamo anche dargli il cambio, un attimo. Non si sta fermando, è tranquillo, amissia. Ok. 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 Non so neanche questa parte, ma è vero per ricalicare. We made it, Lucas. We made it. Andiamo. Hi. Hi. Thank you. Thank you, Lucas. You see? You're pretty tough. Yes, but... I don't think... I'll ever walk again. Oh, come on. I don't know what my mother hid under there, but... You don't want to miss it, do you? Oh, no. Come on. Let's go. Bye. Lynn, non capta da... Non. Non diamo. ecco È un fresco romano... sembra come... plaga di giustiniano. Laurentius mi ha parlato di questo. Un vero massacro. È più peggio di ora? È difficile da dire. Era nel 6 secolo. Lucas, questi luci sono stati da un governatore romano nel 6 secolo. Questo fresco non è qui da chance. E nemmeno siamo. Mi sembra odio che il laboratorio sia lì dietro. Però... Eppure no, perché non ci sono troppo. Allora... Non c'è una maniglia. Eh, magari. Vabbè, uguale. Vabbè, certo. Vabbè, non c'è una maniera. Vabbè. Vabbè. Vabbè, vuoi fare vedere. Vabbè, ho fatto vedere. Ma dov'è io fare vedrai? ok no lucas lucas non corre allora non devo spegnere la luce lì poco ma sicuro quindi va bene mi ha raffanato stavolendo io lo si ok allora vai allora ci si riprova devo spegnere quella luce lì perché lì ci sono dei topi che non ho visto quindi poi facciamo così ok poi così bene e andateve un affanculo oh quindi questo è il sudatorium i romanzi venivano qui per svegliere con l'acqua sì era oh guarda le scoppie cosa alchimiche alchimiche purificazione amalgamazione e sublimazione il simbolo in il basso rappresenta purificazione questi simboli mi hanno fascinato ci sono più di altri due basin 3 simboli 4 scoppie c'è un fire quindi le sfumature usare ci si Allora Allora Ok ok Ben, andiamo. No. Oh, ne ho spiegata troppo. Allora. Qui? Di. Noi. Bene. Ah. nessuno di questi sembra di essere reale non è demandabile lucas ah ok molto bene purificazione e sublimazione toad, suon e serpente quindi il nostro amico il lion è scendendo un segreto ah, fa tutto lui ok in sua cuore, magari aiuto, mamma andiamo hai scoperto il segreto, Amicia hai ottenuto questo vedete magari meno me comunque tutto sgranato però mi stava oltre che accecando mezzo rovinando tutto sembra enorme salvare il amico prenderò ci prenderò quindi cosa vedete? prodotti ulteriori stabilizzati reagenti materiali materiali vastamente superiori da quello che abbiamo visto in giro è tutto Amicia bene 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 Amicia non è scritto da sua madre ho provato una nuova trasformazione ma l'elixir è scoperto la torta del carriere desaparece lasciando mio figlio nella scuola della macchina è stata in giro ciò che stiamo cercando è sicuramente qui ma dove? cosa sembra? lì sembra che c'è qualcosa un altro fresco un bambino nella sua madre ma 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 prima macchina ma 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 così io l'ho 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 vedi l'ho 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 Ah, spettiamo l'alola, l'alola. Luca? Ambra, meraviglioso. Spettiamo! Che è che? La cura per Hugo. Lei stava iniziando un progetto, ma non aveva tempo per finire. Mentre la cura che hai... Si, senza il libro. È incredibile che lei sia potuto farlo così vicino. Quindi magari possiamo usare il proprio. Ma non è così. Ma con il libro e la preparazione, credo... Credo che potrei finire. Si sembra un buon starte, Magister. Perché non mi ha detto? Mi potrebbe capire. Mi potrebbe... Mi potrebbe fare la stessa cosa, Amicia. Lei è un'alchimista. E, sai, una madre protegge i nostri bambini, non? Oh, no, non ora. C'è come? C'è come? Non ora. C'è come? C'è come? Ok. 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 ah lì va bene la cartina è lì ci sono troppo ci sono troppo pochi ci sono troppo pochi, lukas non so quale sia il quale troviamo il quale stacca tutto stacca, non mi sembra bene ma non stacca 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 non stacca Oh no, oh no. Oh, that is absolutely. That noise. They're coming back. It's happening. We're going. We're going. We're going. We're going. I'm coming. Put it there. Right. Let's awaken this phoenix. Gently. Stop. no fai ok non man da ok 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 lì allora ci si diverte allora ok ci sei Lucas? andiamo ah ok fai tu gentile molto gentile assicurante ah cazzo ok 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 It might be a little bitter Never mind, drink it in one gulp Very good So, am I cured now? Well, in any case, you'll soon be a lot better Me, sir Will we never see mommy again? Oh, Hugo I told you She... She won't be coming back No And it doesn't hurt where she is? No, no, of course not Let's all go to bed now, eh? And tomorrow, when you wake up, you'll feel a lot better You'll see In the last moment, I'll show you the video It's all So, let's go And you have a lot of temples